e continua la mia lotta personale nei confronti del nuovo microfono come vedi nell'ultimo video è andato meglio infatti molti membri della community mi hanno segnalato che si sentiva abbastanza bene ma qualcuno mi ha segnalato che l'audio si sentiva anche un pochino ovattato e non sia mai che il suo appello rimanga inascoltato ho perso altre due ore o pastrugnato con i settaggi nella speranza di essere riuscito ad arrivare ad un risultato soddisfacente cosa che mi puoi confermare solamente tu facendomelo sapere gentilmente ti prego e te ne sono grato nei commenti così possiamo finalmente chiudere questo capitolo ma ne apriamo subito un altro e si tratta del capitolo relativo al software di oggi che in realtà non è affatto un software si tratta di uno script fatto dal nostro grandissimo chris il moderatore del forum e della chat che si è industriato per creare un sistema per farci avere dei backup automatici costanti senza che noi dobbiamo mai più preoccuparci per tutta la nostra vita dopo averli configurati troppo bello per essere vero io dico di no e te lo voglio dimostrare e quindi se ti senti pronto iniziamo e vorrei dirti che ci lanciamo immediatamente a capofitto nell'argomento del giorno ma in realtà se lo facessimo commetteremo un errore davvero madornale e cioè quello di non compiere a fondo il nostro dovere perché come ben sai ci tocca fare il nostro rituale apotropaico per tenere a bada le iraconde divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va santa polenta quanto ci fanno ballare queste divinità del tubo ma veniamo a noi quello di cui ti voglio parlare oggi è un problema che è stato sollevato da alcuni membri della community di che si tratta se ben ricordi qualche giorno fa abbiamo visto insieme un software utilissimo che ti lascio linkato alla fine di questo video che si chiama shadow explorer ebbene questo software ci consente di recuperare delle impostazioni di sistema dei file che magari sono stati cancellati per errore corrotti oppure cancellati da un ransomware e così via a patto che però esistano dei punti di ripristino che ci consentono di farlo ebbene molti membri della community hanno segnalato proprio questo problema ovvero che i punti di ripristino non vengono creati con una certa regolarità da windows e quindi pur disponendo di uno strumento così prezioso non possiamo utilizzarlo al cento per cento e a questo punto interviene il nostro chris a cui ho chiesto visto che è bravissimo con lo scripting di creare uno script che faccia automaticamente dei punti di ripristino con regolarità per noi senza andare a consumare troppo spazio sul disco e avendo sempre a disposizione un backup recente da cui d'ora in poi potremo recuperare qualsiasi cosa abbiamo perso insomma un bellissimo vantaggio chris ha presentato anche un video in cui spiega l'utilizzo di questo software video che io maldestramente scimmiotterò nel video di oggi ma che ti lascio linkato nella descrizione di questo video qua va bene t'ho detto tutto quello che ti dovevo dire e adesso mettiamoci al lavoro e andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare per scaricare ed utilizzare questo script e soprattutto dormire sonni tranquilli e allora diamoci da fare la prima cosa che dobbiamo verificare è che sul nostro sistema siano attivi i punti di ripristino e questo perché microsoft come sempre per motivi imperscrutabili li lascia disattivati su tutti i nuovi windows farlo è facilissimo ci porteremo infatti qui in basso sulla lente di ricerca ed al suo interno andremo a digitare proprio la parola ripristino vedremo comparire questa iconcina qui che andremo ad aprire naturalmente e ci porteremo su questa voce la terza quella che si chiama configura ripristino di sistema una volta aperta questa finestra cliccheremo sul pulsante configura e andremo ad attivare la protezione di sistema tramite questa voce qui dopodiché clicchiamo su applica su ok e chiudiamo con un altro ok la finestra che si era aperta e quindi la finestra principale fatto questo possiamo andare a scaricare lo script che ci interessa per farlo apriamo il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca digiteremo come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento come sempre al primo risultato e cioè quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it clicchiamo per aprire il sito e portiamoci qui in alto nella sezione downloads una volta aperta la pagina possiamo scendere un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui quello che si chiama punti di ripristino by chris nel caso in cui non dovessi trovarlo niente paura ti porterai qui in alto sulla lente di ingrandimento aprirai la barra di ricerca e digiterai al suo interno ad esempio la parola ripristino effettua la ricerca premendo invio e vedrai che punti di ripristino by chris ti comparirà comunque clicca sul nome per poter scaricare il file che come vedi viene scaricato in un tempo rapidissimo clicchiamo su questo pulsante qui per aprire la finestra che contiene la cartella compressa che abbiamo scaricato e andiamo a chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più ora andiamo a fare un doppio clic sul nostro file e trasciniamo la cartella che si trova al suo interno sul nostro desktop una volta che la cartella sarà stata trasportata potremo chiudere la finestra della cartella compressa ed andare invece ad aprire la cartella che abbiamo appena creato come vedi al suo interno sono presenti tre file andiamo a lanciare il primo quello che si chiama disattiva attiva punto ripristino tempo limite facendoci doppio clic un attimo per una breve spiegazione che ci fa chris chris infatti ci dice che su windows è impostato un tempo limite prima del quale non può essere effettuato se già ne abbiamo fatto uno un punto di ripristino per andare a disattivare questo tempo limite che di solito ammonta ad un giorno lanciamo questo file come abbiamo appena fatto premiamo un tasto come ci viene detto dalla schermata che vediamo confermiamo consigli di voler apportare le eventuali modifiche al nostro dispositivo e come vedi qui ci viene detto che attualmente su questo sistema questa limitazione è attiva per disattivarla potremo utilizzare l'opzione 2 che come ci dice chris disabilita il blocco permettendo punti di ripristino senza limitazioni cosa che ti consiglio di fare ma se vorrai tornare invece allo stato precedente potrai utilizzare di nuovo l'opzione 1 che riabilita il blocco predefinito di 24 ore io in questo caso voglio togliere questo blocco quindi digito 2 sulla mia tastiera seguito da invio ed ecco fatto l'operazione è stata completata e noi possiamo premere un tasto per continuare come vedi la finestra si chiude e potremo passare alla seconda fase e la seconda fase è la fase clou quella ovvero in cui andiamo a creare il nostro punto di ripristino per farlo facciamo doppio clic sul secondo file quello che si chiama punto ripristino manuale e pianificazione e veniamo avvisati che stiamo per entrare con privilegi di amministratore cosa normalissima che richiede che noi premiamo prima un tasto e che poi clicchiamo come facciamo sempre su sì per accettare che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo chris a questo punto ci saluta con il suo messaggio di benvenuto su cui possiamo cliccare ok e si aprirà lo script e a questo punto abbiamo di fronte una triplice scelta se premeremo infatti il tasto 1 creeremo un punto di ripristino ogni giorno alle 12 se premeremo il tasto 2 creeremo un punto di ripristino ogni 5 giorni sempre alle 12 se premeremo il tasto 3 programmeremo il punto di ripristino ogni 10 giorni sempre alle 12 oppure con il tasto 4 possiamo creare un punto di ripristino manuale sul momento e se volessimo un orario diverso so già che stai per chiedermelo e quindi ti anticipo te lo faccio vedere tra un attimo adesso facciamo la prima operazione quella che ti consiglio di fare ovvero di creare ogni giorno alle 12 un nuovo punto di ripristino premiamo quindi il tasto 1 seguito dal tasto invio e come vedi ci vengono restituiti degli errori che chris ci dice che sono normalissimi perché nel momento in cui effettuiamo questa operazione vengono cancellati i precedenti punti di ripristino che in questo caso non esistevano e quindi non essendo stati trovati i relativi file ci viene restituito questo normalissimo ripeto messaggio di errore ma ci viene detto anche che l'operazione è riuscita e l'attività pianificata punto di ripristino automatico giornaliero è stata creata quindi potremo premere un tasto per continuare e a questo punto premere il tasto 5 per uscire premiamo invio ed avremo creato con successo il nostro primo punto di ripristino automatico giornaliero che tuttavia richiederà che il nostro computer ogni giorno sia acceso alle 12 altrimenti se sarà spento il punto di ripristino non verrà creato quel giorno ma verrà creato la prima volta che il computer sarà trovato acceso alle 12 ma se io alle 12 sono al lavoro oppure mi sveglio tardissimo mi sveglio a luna e non voglio che il punto di ripristino venga creato a quell'ora come faccio beh questo riguarda la fase 3 qualcuno sostiene che io mi diverta ad infilare le dita nella videocamera e non posso personalmente escludere che non ci siano dei perversi risvolti psicologici in tutto questo ma torniamo a noi perché dobbiamo utilizzare la terza utility che ci fornisce chris sempre sotto forma di piccolissimo script che altro non fa se non andare ad aprire la nostra utilità di pianificazione di windows facciamoci quindi doppio clic su e vedremo che l'utilità di pianificazione si aprirà quello che dobbiamo fare a questo punto è portarci su questa voce qui quella che si chiama libreria utilità di pianificazione dove potremo fare due cose la prima osservare che effettivamente è stato creato il nostro punto di ripristino automatico giornaliero che viene effettuato alle 12 di ogni giorno ma potremo anche cambiarne la pianificazione in termini di orario e anche di giorni se vorremo per farlo ci basta fare un doppio clic su questa voce qui e una volta che si sarà aperto potremo andare qui in alto sulla seconda scheda quella che si chiama attivazione fare di nuovo doppio clic su questa voce qui ed andare a cambiare a nostro piacimento l'orario di avvio della pianificazione ad esempio alle 18 di sera fatto questo ci basterà cliccare su ok e nuovamente su ok chiudere l'utilità di pianificazione di sistema e avremo risolto tutti quanti i nostri problemi beh magari proprio tutti tutti no ma se non altro avremo la grossissima consolazione di non perdere mai più nessuno dei nostri file scusa se poco direbbe qualcuno e di disporre di una macchina del tempo che ci potrà portare indietro a qualunque momento felice della nostra vita informatica ma veniamo a noi solo che oggi prima di passare ai ringraziamenti del giorno volevo ribadire questo mio piccolo invito di farmi sapere gentilmente come è andato l'audio di oggi in modo da capire se finalmente abbiamo raggiunto la pace dei sensi almeno per quanto riguarda questo aspetto e detto questo passiamo a noi perché oggi c'è un saluto veramente speciale da fare e questo saluto è destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima ciao 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 ciao